Dopo la protesta sotto la sede comunale, dopo l'ulteriore mobilitazione in assemblea di due giorni fa, c'è stato il tanto atteso incontro tra il sindaco della cittadinanza Nicola Giorgino e la Will Scuola per discutere proprio dei problemi legati all'avvio dei servizi scolastici cittadini. Alla presenza di numerosi dirigenti scolastici e dei responsabili degli uffici scolastici regionali e provinciali, si è discusso in particolare di Mensa, vero nodo sul quale si basano diversi problemi sia per le famiglie con bambini fruitori, ma anche per circa 150 tra docenti e personale ATA che non troveranno più posto nelle sedi andriesi. Al termine dell'incontro, durato circa tre ore, tutta la delusione dei sindacati. C'è tuttavia una certezza, la Mensa non partirà per ora, almeno sino all'espletamento del bando in corso di realizzazione e che potrebbe terminare le procedure non prima di marzo prossimo. Cioè la Mensa scolastica, per quello che diciamo è venuto fuori, non parte perché la cosiddetta ulteriore proroga non arriverà mai e quindi per l'espletamento del nuovo bando gara che occorrono dei tempi tecnici dettati dalle condizioni europee dovremmo arrivare poi intorno a marzo. Quindi anche se arriva intorno a marzo ci sarebbe poi il problema dei genitori che comunque hanno trovato delle soluzioni alternative e quindi diciamo magari è troppo tardi per far partecipare i propri figli alla Mensa. Sembra infatti alquanto improbabile che ci sia una risposta positiva o comunque celere dell'Anaca a cui è stato richiesto da parte dell'amministrazione comunale un parere per una ulteriore proroga alla ditta che ha svolto fino a giugno scorso il servizio. Allo studio qualche soluzione tampone tra cui l'ormai famoso pasto da casa, ma su questa ipotesi dell'amministrazione comunale sono molteplici le titubanze dei dirigenti scolastici che hanno già dato parere negativo. Restano anche le perplessità rispetto alla possibilità di riattivazione nel prossimo anno scolastico e restano ulteriori perplessità rispetto alla delibera di giunta che ha fissato in 4,90 euro un'unica fascia per l'attivazione della Mensa. Il sindaco insisteva con la dottoressa Matera che ci sono queste sentenze che prevedono il pasto da casa, addirittura si è pensato a un servizio catering da parte dell'amministrazione che forse potrebbe avere addirittura dei costi rispetto a quello della fascia di 4,90, quindi dei costi inferiori. È stato categoricamente escluso da parte dei dirigenti questa soluzione perché si troverebbero di fronte e condividono la loro posizione a delle responsabilità grandissime come far consumare il pasto, quale tutele avrebbero loro se il bambino si sente male, quindi se ha delle allergie e quindi loro cosa chiedono soltanto come soluzione tampone e lo ha dichiarato la dirigente Celestina Martinelli in qualità di presidente del CISA, l'unica soluzione che loro adottano e chiedono alla dirigente Lottito è quella di mantenere l'attuale assetto organizzativo del personale docente allargando l'orario matutino di un'altra ora, cioè facendolo arrivare alle ore 14.30. Mi pare di aver inteso che la dottoressa Lottito sia d'accordo per questo periodo come soluzione tampone.